Probabilmente servirebbe proprio un confronto diretto, ufficiale e una sorta di congresso di zona. A San Giovanni Sinistra Ecologia e Libertà appare sempre più spaccata in due, con i numeri difficilmente quantificabili da ambo le parti. C'è chi sta con l'assessore Giuliani e segue l'idea di rimanere all'interno della maggioranza e della giunta comunale e chi apprezza, anzi esalta, la scelta del consigliere Gauni di sedersi ai banchi dell'opposizione nell'ultima sessione del parlamentino. L'ultimo capitolo, per il momento, della querelle, è arrivato con un comunicato firmato da otto esponenti del partito che rivendicando di rappresentare la maggioranza della base sostengono Gauni e rinnegano il recente scritto ufficiale della sede comunale nel quale era stato confermato l'appoggio alla scelta di Giuliani verso Villigiardi e che secondo gli otto firmatari aveva anche il simbolo di Selle sbagliato. Continuano dunque le discussioni numeriche su chi in effetti abbia il consenso dell'elettorato e degli iscritti ma senza un confronto diretto, appunto, questo è più che difficile da comprendere.